L'emozione principale che domina l'essere umano, un'emozione primaria, è la paura. Pensiamo, si dice che la paura primordiale dell'umanità sia la paura della morte. Quindi noi non agiamo, non facciamo qualcosa, perché in realtà abbiamo paura di morire, ed è vero. Ma andando un po' più in alto nella piramide, mettiamo come base la paura della morte, quindi la paura primitiva, che domina l'inconscio di ognuno di noi, che domina l'inconscio di ogni essere, perché abbiamo l'istinto di sopravvivenza che naturalmente ci spinge a preservare la nostra esistenza. Qual è la seconda paura più comune, secondo voi? Ecco, io ci ho pensato. E la seconda paura, che è in secondo posto dopo la paura della morte, la paura di morire, quindi la paura di perdere tutto, in poche parole, è la paura di essere felici. L'essere umano ha paura di essere felice e vive in uno stato continuo di autosabotaggio per evitare di essere felice. È paradossale la cosa, perché tutti, consciamente, se domandiamo a qualcuno che cosa desideri, quella persona potrebbe desiderare avere più denaro, avere più successo, e tradotto a livello conscio, significa desidero essere felice. Però in realtà, se andiamo a vedere la quotidianità, il day by day di quella persona, scopriremo che non fa nulla per raggiungere quel desiderio che ha espresso. Anzi, fa di tutto per mantenersi in uno stato vibratorio inferiore a quello a cui è portato a vivere. Noi siamo esseri, metà animali e metà divini, ne ho parlato in molti video. Siamo il ponte che collega l'essere animale all'essere divino. Per questo abbiamo una statura verticale piuttosto di quella orizzontale degli animali. Noi siamo portati alla verticalità, siamo portati alla spiritualizzazione dell'individuo che siamo. Prima dobbiamo costruire l'individualità e dopo dobbiamo costruirci la parte divina che ci manca, o che siamo ma che abbiamo dimenticato. L'ho scritto anche in uno degli articoli che ho pubblicato nei giorni scorsi. Siamo esseri divini e anche esseri animali. In questa vita dobbiamo soddisfare i bisogni animali, quindi tutti i bisogni della piramide di Maslow, dove c'è il bisogno, i bisogni primari che sono quelli di mangiare, bere e dormire, quindi quelli istintivi, i bisogni di essere accettati nella cerchia sociale, fino all'ultimo bisogno che è quello dell'autorealizzazione. Ma l'autorealizzazione è già nelle sfere superiori dell'essere umano. Se non ho soddisfatto però quelli che sono i miei bisogni più bassi, non potrò mai soddisfare, dice Maslow, i bisogni superiori. Ecco, dobbiamo essere un tutt'uno con ciò che siamo. Dobbiamo comprendere la nostra natura, comprendere che abbiamo sia una natura animale, perché il corpo che viviamo, che abitiamo, che abbiamo in prestito in questo passaggio, in questo soffio di vita, per l'animo una vita è un giorno per noi, non è nulla, ma in realtà è preziosa. Ed è un peccato sprecarla avendo paura di essere felici. Abbiamo paura di autorealizzarci, e quindi vibriamo ad un'energia inferiore, e quindi stiamo male. Perché l'umanità soffre? Perché ha dimenticato la sua divinità, ha dimenticato il suo sole. Il sole è una stella che brilla di luce propria. Ecco, noi siamo anche stelle, che abbiamo dimenticato che possiamo vibrare e illuminare, irradiare luce a partire da noi stessi, e non mendicare luce dal mondo esterno. Grazie. Grazie.